organizzo matrimoni prendendomi cura di voi e dei vostri ospiti vi affiancherò in ogni vostra scelta dalla location cornice del vostro giorno più bello l'abito da sposa che valorizzi la tua essenza alla scelta dei fiori più adatti per il tuo bouquet il trucco che valorizzi i tuoi lineamenti e le emozioni sul tuo volto una tavola impeccabile per accogliere i vostri ospiti e festeggiare insieme la vostra gioia per arrivare al taglio della torta uno dei momenti più simbolici del matrimonio mi chiamo sabrina aurilli e sono una wedding planner e designer